Il DAP, documento annuale di programmazione, approda in aula. Due giorni di dibattito per discutere, criticare, integrare e infine approvare quella che è la spina dorsale della politica finanziaria regionale. Un dibattito che già si preannuncia caldo e che arriva all'indomani del botte risposta tra PDL e Lega e Presidenza della Regione su trasporti e sanità. Da una parte il centrodestra che accusa Palazzo Donini di aver nascosto l'accordo di dicembre con il Governo che avrebbe stanziato maggiori risorse. Dall'altra la replica della Presidenza. In realtà, sostiene il portavoce della Marini, quell'intesa garantiva meno tagli, non più risorse. E nemmeno quei soldi ci sono. Il DAP, approvato in Commissione con cinque voti a favore e due contrari, prevede tra l'altro interventi per la semplificazione amministrativa, l'accesso al credito, la green economy, le infrastrutture e la ricostruzione. L'Udc aveva proposto integrazioni su famiglia, assistenza domiciliare, lotta alla tossicodipendenza. Un vero e proprio contro DAP, invece, è quello presentato dal centrodestra, che propone di razionalizzare la spesa, aprire ai privati, aumentare la produttività della pubblica amministrazione ed evitare lo scivolamento verso sud. All'ordine del giorno della doppia seduta del Consiglio regionale, anche la richiesta di istituzione di una Commissione sulla tossicodipendenza e la rielezione dei membri e del Presidente del Corecom, il Comitato per le Comunicazioni.